Siamo qui con il sindaco Giorgio Cangiano, che è appunto il sindaco di Albenga, un comune che andrà al voto nel 2019. Quattro anni trascorsi più o meno in fretta, qual è il bilancio che vogliamo tracciare? Sicuramente io credo, io parlo personalmente, ma per tutta la mia amministrazione, un bilancio positivo, positivo perché intanto abbiamo messo tutti quanti il massimo impegno per affrontare una serie di tematiche complicate che chiaramente riguardano la città di Albenga. È chiaro che non è semplice amministrare una città, non è semplice farlo in un periodo storico così complicato, anche dal punto di vista delle risorse, però veramente l'impegno che si è stato messo è stato veramente massimo e credo che ci siano stati anche dei risultati positivi di cui insomma incominciamo adesso a godere di alcuni frutti. Ovvio uno dei primi risultati credo che sia stato quello di mettere a posto tutti i conti del comune, che comunque è un elemento fondamentale per poter poi programmare. Noi abbiamo dovuto affrontare delle situazioni anche con l'accordo dei conti legate al passato, di investimenti fatti anche su derivati, abbiamo dovuto accantonare delle somme importanti per dare stabilità. Quindi tutte scelte che credo siano state giuste hanno comportato il sacrificio da parte di tutti gli amministratori e degli assessori perché ognuno ha dovuto fare dei tagli sulle proprie competenze, però adesso che abbiamo messo a posto questa situazione e forse sempre a calcolo dei conti ci lascia anche utilizzare parte di queste somme perché siamo riusciti a rispondere sempre anche negli anni successivi in senso positivo a questa situazione, sicuramente credo che abbia dato un buon punto di inizio. E poi è chiaro, insomma, interventi fatti, sicuramente ce ne sono molti, io ne cito alcuni, tanto alcuni significativi perché poi sono cose che nel corso degli anni passati se ne sentiva sempre parlare, poi nessuno li faceva, li prometteva, invece io credo che noi alcune cose a questo punto l'abbiamo fatto, cito via Enaudi a Vadina, che abbiamo fatto un tratto, l'abbiamo sistemata completamente, abbiamo reso fruibile e percorribile un tratto di strada che ormai quasi non era più, con i parcheggi che erano ormai ridotti a delle gincane, e analogamente via Gramsci, sempre a Vadina, un altro tratto di strada che era complicatissimo sempre per questa problematica, Piazza Matteotti, vicino alla stazione, che era un'altra area che era veramente complicata, soprattutto perché era vicino alla stazione dove veramente chi veniva o chi partiva per Albenga non riusciva a parcheggiare a vista la situazione, ma Piazza Trincheri, c'è anche un'altra piazza che abbiamo recuperato, c'è un'area che era forse una delle ultime del nostro centro storico, che era abbandonata con pezzi di asfalto, era diventato un luogo dove era un parcheggio, ma era anche malfrequentato, di personaggi che purtroppo creavano dei problemi, adesso è diventato un'area dove ci sono attività commerciali, vengono fatti eventi, Piazza Falcone Borsellino, lì a San Fedele che abbiamo trasformato in un parcheggio con un'area gioco per i bambini di cui usufruisce tutta la frazione. Gli interventi sono stati fatti tanti, adesso ce ne sono alcuni in corso, a me piace citare quelli riguardanti le attività sportive, che sono secondo me per noi molto importanti, anche perché recentemente, proprio ieri leggevo, c'era uno studio che indica delle malattie, delle problematiche più grandi che ci sono adesso per i nostri ragazzi, proprio quello dell'autodisolamento, c'è centinaia e migliaia di persone che, ragazzi che vivono nella loro camera, non escono di casa perché non riescono ad avere stimoli, a farli come voglio, io credo che invece lo sport serve anche a questo, quindi puntare sul rifacimento del campo di calcio dello stadio di Nibale Riva, tutto in erba sintetica per far sì che si possano allenare e giocare tutti i ragazzi della città, il Palamarco che stiamo rifacendo, il parquet, aver creato degli spazi aperti, fruibili gratuitamente ai ragazzi, un parchetto fatto dal Centro Giovani in Piazza Europa o quel parco per le biciclette che abbiamo adesso fatto in un'altra area che adesso è usufruibile, a breve dovrebbe finire la realizzazione del tennis club ad Albenga, quindi tutta una serie di interventi che renderanno più facilmente fruibili le nostre strutture e questo devo dire che grazie all'enorme numero di associazioni sportive che ci sono, darà la possibilità ai ragazzi di poter svolgere questo sport, così come sport nautici che stanno svolgendo, quindi è una cosa credo molto bella. Poi interventi in mente, ovviamente ne abbiamo ancora molti da fare, chiaramente adesso abbiamo ancora un po' meno di un anno, ma io vorrei metterne in cantiere altri, a breve partiranno una serie di interventi di asfaltatura della città, che è comunque un'altra problematica che c'è, anche lì siamo riusciti a mettere da parte delle somme risparmiando e adesso a breve partirà un bando per avere questa esecuzione e molto probabilmente ne faremo un altro, perché io temo e credo che il discorso delle strade sia un discorso per troppo tempo trascurato, così come è stato trascurato per troppo tempo la questione del verde, perché chiaramente anche sul verde pubblico noi abbiamo dovuto intervenire con potature di tutti i presenti viali della città, che erano in condizioni assurde, adesso siamo riusciti a potarli tutti, adesso dovremo rincominciare il giro, così come un altro intervento che a me veramente ha dato, se vogliamo dire, soddisfazione nella difficoltà, nella sensazione di comprendere il rischio che poteva esserci, era quello della pulizia del fiume Centa, perché veramente noi siamo riusciti a pulirlo già in più occasioni, chiaramente tagliando gli alberi che ci sono all'interno e devo dire che in quel fenomeno alluvionale che c'è stato, l'ultimo, non quello del 2014, ma quello successivo, c'è stato un momento dove c'era un rischio di sondazione e anche gli esperti che erano venuti alla regione ci hanno fatto capire che se non avessimo creato questa possibilità di deflusso delle acque probabilmente ci sarebbe stata questa sondazione e sappiamo cosa avrebbe voluto dire per tutto il centro storico, per Vadino, per tutta un'area complicata. Adesso abbiamo in corso altri interventi che sicuramente possono migliorare questa situazione, ad esempio l'Argine allusignano, che abbiamo ottenuto un finanziamento della regione e a breve partiranno i lavori, anche questo metterebbe in sicurezza tutta una porzione di territorio importante. Un'altra cosa che a me ha dato un'enorme soddisfazione è quella legata al fatto di essere riusciti a dare in gestione il parco Peter Pan, che era un problema per la città, perché era un parco abbandonato, mal frequentato, all'Anfas, quindi a queste persone con ragazzi con disabilità, che chiaramente insieme a degli educatori svolgono un ruolo importante, perché loro gestiscono direttamente il bar, riescono a dare un servizio all'altezza e le persone vanno, perché chiaramente si trovano bene, ed inoltre si è riuscito a riportare quel parco all'utilizzo delle famiglie. Quindi insomma un progetto questo che veramente ha riempito di soddisfazione tutti, e dico la verità, quando abbiamo inaugurato sentire un genitore dire guarda mio figlio si sveglia e esce di casa volentieri perché sa che deve andare a lavorare, cioè sono quelle cose che secondo me danno soddisfazione, perché poi sono quelle cose che uno cerca di fare al meglio. Così come tanti eventi che abbiamo fatto, cito per ultimo il discorso dell'Anfiteatro Romano, che abbiamo riaperto dopo 1800 anni a una rappresentazione, che queste sono cose che danno soddisfazione, poi è chiaro che sono consapevole che cosa fare ce ne sono tante, e moltissime devono essere iniziate, altre ultimate, però io credo che quando uno ci mette l'impegno al cuore per la città che ha, ma comunque qualche risultato sicuramente arriva, e quindi insomma io continuerò così, perché penso che questo sia il modo migliore per cercare di amministrare la propria città. Quindi ancora alcuni mesi, perché è un po' meno di un anno ormai, per continuare a lavorare, ma l'intenzione c'è quella di ricandidarsi o no? Dico la verità, io adesso voglio ancora intanto far passare ancora un periodo, perché secondo me è giusto pensarci bene, ma il mio intento adesso è quello di lavorare al massimo per tutti i mesi, che ho, puoi ricandidarmi e dico la verità, è complicato perché comunque per me col lavoro che ho diventa veramente molto impegnativo, mi sveglio prestissimo alla mattina, cerco di fare entrambe le cose, cerco di essere presente il più possibile, ovviamente sul mio lavoro e ovviamente sul comune, agli eventi che vengono realizzati, perché secondo me è giusto esserci anche agli eventi e essere presenti in tutta la vita dell'amministrazione, quindi io penso che sia giusto pensarci, è veramente forse un po' prematuro, però insomma vogliamo ancora fare delle cose, fra tutto è poi la partenza del polo scolastico, che è un lavoro che poi cambierebbe veramente la città e quindi io su questo voglio lavorare e comunque lasciare questa cosa in corso, perché penso che sia una cosa per tutti i cittadini del Benga e del compressorio veramente fondamentale.